Inizia male l'avventura di Davide Di Michele sulla panchina della Turris. I Corallini escono sconfitti dalla trasferta contro l'audace Cerignola per 2 a 1. Partenza sciocca della Turris che capitola dopo appena 32 secondi, Malcore si infina nell'elettroguardia ospite e trafiggia Perina per l'immediato 1 a 0 facendo esplodere lo stadio Monterisi. I Corallini, per l'occasione in una particolare tenuta completamente verde, sfiorano subito il pari con Leonetti ma il portiere Saracco si fa trovare pronto. Il pareggio comunque arriva poco dopo la mezz'ora con Magnero che trasforma un rigore concesso per fallo di mano e si arriva all'intervallo sul risultato di 1 a 1. In avvio di ripresa è ancora la squadra di casa a trovare la via della rete con Tascone da pochi passi. La Turris soffre per buona parte di gara ma va vicino alla seconda rete con Neo entrato a quadro che centra in pieno la traversa. Finisce così 2 a 1 per l'audace che infligge un'altra sconfitta alla compagine Corallina che ora deve cercare riscatto a mercoledì nella trasferta di Coppa Italia contro l'Avellino.